Si terrà il primo luglio prossimo davanti al GUP del Tribunale di Lago Negro l'udienza preliminare nei confronti dell'assicuratrice di Sala Consilina ES, 34 anni, e di altre 56 persone coinvolte in una truffa ai danni di cinque compagnie di assicurazioni, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di una donna di nocera inferiore. L'assicuratrice e le altre 56 persone coinvolte, tutte beneficiarie di polizze assicurative a prezzi vantaggiosi, potrebbero essere processate per concorso nei reati di truffa, danneggiamento fraudolento dei beni assicurativi e falso materiale ideologico. A scoprire il meccanismo truffaldino sono stati gli agenti della tenenza della Guardia di Finanza di Sala Consilina, comandata dal luogotenente Giuseppe Iannarelli. Le fiamme gialle, dopo una lunga indagine, hanno scoperto che la truffa sulle assicurazioni coinvolgeva il Vallo di Diano e la provincia di Napoli. La donna di Sala Consilina è considerata dagli inquirenti la mente della truffa. Le altre 56 persone per le quali è stato richiesto il rinvio a giudizio sono per la maggior parte automobilisti residenti in provincia di Napoli, ma fra essi figurano anche diversi stranieri di origine cinese, indiana e rumena. La truffa consisteva nell'accendere nuove polizze auto, a favore di automobilisti consenzienti ai quali venivano applicate le tariffe della Basilicata anziché quella della Campania, e ciò attraverso la contraffazione di documenti, carte d'identità e attestati di rischio falsi. In tal modo si otteneva un consistente risparmio sul premio assicurativo, il cui importo, in alcuni casi, risultava essere tre volte minore rispetto alle tariffe vigenti in Campania. La truffa ai danni dell'assicurazione presso la quale la 34enne lavorava come subagente ammonterebbe a circa 100.000 euro. L'agenzia assicurativa è risultata del tutto estranea ai fatti, e di lì il titolare, una volta scoperto il raggiro, ha provveduto immediatamente a denunciarlo all'autorità giudiziaria. La donna, con l'aiuto di alcuni suoi complici residenti nel napoletano, intercettava gli automobilisti ai quali veniva proposto di risparmiare sulla polizza assicurativa. L'assicuratrice è stata indagata anche per il reatto di appropriazione in debita perché si sarebbe appropriata della somma di circa 650 euro versatele da una cliente per il pagamento della prima rata del premio assicurativo di una polizza RCA.